BIA CRIIIII Questa volta c'è anche il dottore per il capitolo 2 di Shadow Dragon Grazie di Garda No, seriamente, si chiama Garda, l'originale Garda? Sì Oh, 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 Gardaland Marto e Gesù perché cammina sull'acqua Bravissimo Galder, il porto che collegava la terraferma a Talis, non era mai stato un posto per gente ricca Tuttavia, aveva un suo fascino particolare Tutto cambiò però quando un gruppo di pirati vi insedio il proprio copo Qui a Galder, la storia ricorda i primi passi di Marth per liberare il paese Bravo Marth che impara a camminare Morteo Solvini Oh, quanti pirati, ci sono due cavalieri incredibili Principe Marth, il mio nome è Ogma e sono un mercennio di Talis Il re ha pregato me e i miei tre uomini di unirci al vostro esercito Da ovest sono giunti dei cavalieri che recano lo stendardo crostiano Intendono uccidervi Sire, siete prudente Oh che cattivi Ma noi abbiamo i ruspadini Allora, visto che dobbiamo accedere al capitolo 6X per farvi una sorpresa Uccidiamo Cord Cord E Bord Si però magari dai... Ah no aspetta ci sono dei cavalieri qua sopra Cavalieri in che senso? Eh, quelli tipo Draug Cioè hai Draug Ma let's use No, perfetto Ah, comunque Paco Dica Quando muoio non ti droppano tutta la roba nel coso, nei rifornimenti Ah, posto, ma non reggito neanche d'Arros perché non... Ah, oh, ma lui è romano Meno vedere la scena e poi mandarlo a morire, no? Anche, giusto, hai ragione Esatto Bona, che facciamo? Allora, vediamo un po' Sono abituato a passare Dov'è, dov'è, dov'è Cosu? Castor No, è tipo qua Si Uè, mia mamma sta male Triggered Ah, ma proprio... Pogma va cattivo Magari non spercando la... Ah, ma non lo do Perché non lo doppia Siamo in H1? Si, ma... Ma... Ah, ok, la doppia Vabbè, sai... Mi son perso l'X2 No, la spada... Io facevo 11 Ah, ok La spada ferro 8x2 Ha laggato un pochino, mi sa Cordboard Burst Si, questi vanno a morire contro il boss, se ne frego Mentre Burst va a ammazzare tutti Eh, fammi reclutare prima il romano, va? Oh, si... Parla da solo con Mortner Ah, si? Si, si Allora, posto Ehi, Cosu Guardalo qui Glorious Da swag Mi raccomando Mirmiro Ovvio Ma... Beh, lo faccio morire o no? No E' buono Se vuoi usare Cioè, mi sicuro è meglio di race E vabbè Mi ha fatto un level up nullo Ma... Porca... Oh... Principavarza Soldarro su un umile lupo di mare Mi sono stufato di fare il pirata, voglio rifare una vita Che ne dici? Fammi venire con te e ti giuro che mi farò in quattro Sì, ok Posso fare bene le voci Wende pirati romani Are the best pirati Oh, oh... Ma board glielo porterai in endgame Cosa gli facciamo fare il test dell'ascia demoniaca? Aspetta, quale... Quindi... E... Eccolo Madonna Sedici La violenza Cioè, lascia che è più grande di lui ai momenti Ma guarda quante forze ha Fanculo E' tanta A livello tre Non me lo ricordavo Così forte, sai Arste OP Cioè, già era forte e misteri dove non riusciva a classare Figurati... Cioè, i misteri Misteri Buquan Sì Guarda quanto fa cagare Mart Ma mi era cresciuto bene, è solo che alla fine si faceva comunque doppiare da Amedeus Lo stesso In H1 Sì, in H1 Minchia Ah, ma Ogma doppia il pirati Beh, Ogma che doppia un ladro, guarda che... Ogma me ero morto, mi ricordo Ma sì, era quella rana scazzo fatta per far morire tutti e beccare tutti i digi strani Ansuz Sì, la chierica generica che ammazò Garne Cioè, che ammazò che... Tancherò a Garne Perché non è ancora Hai ragione, hai ragione Cos'era? I bulli Ma non parliamo di Prama Sei sicuro che sopravviva? Facciamo una cosa, aspetta allora E infatti Ma perché i cavalieri qua sono un po' i cavalieri fantini bla bla Sono forti Essendo il capitolo 2 che non avendogli ancora incontrati neanche uno, guarda Ma i fantini tipo questi... Sono forti? Sì, sono due però Te li mandano forti Giusto per dire Eh sì, ci sono i pirati però Vedi che stanno rimando l'esercito qua e lo figono Davvero non so se sarà ancora il martello coso Che palle Non mi dispiace Non gli serve il banana È vero che posso andare su là questi qua Sì I pirati Gesù Vedi di quanto ci ho bestemmiato per me Ok, uccidete me lo dai, su Hank, temosi alla fine È best death quote ever proprio Sì Eh, a volte capita Quindi dov'è il tuo triangolo delle armi adesso? Perchè? Luke Oh Col novanta Sei sfigato amico Non è l'RNG C'è questo qui l'RNG di coso Di Binding Blade Finish him Boom Fatale Boom 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 Oh Vediamo Vabbè Bella, c'è forza C'è forza Ma giacca a 13 in velocità Guarda che Che è già più veloce di Nabal E non è una bella Ma quindi quelli lì non riusciranno ad attaccare perchè si sono bloccati di culo Esatto Ma siamo lì in Marta a tankerare tanto chi se ne frega Ma quella cura quanti usi Oddio Sì perchè lo volevo farlo Volevo formare un po' no Tanto faccio mica le un po' No cazzo una armeria La prossima arriva nel capitolo 4 O meglio Sì nelle preparazioni nel capitolo 4 Sì ma vuol dire che devi fare capitolo 3 senza cura Oh porco schifo Ma no Che puoi? Ma tu No aspetta È OP quella cosa Fermati un attimo Io cazzo non l'oretto Te lo dico subito Ti metti sulle barre Sì è brutto però Poverino Vuole i soldi per sua madre Se lo dà con il nemico Beh perchè è il nemico ai soldi Che traditore di merda Sì Beh è difesa Sì però Quale sarà il fatto di Gordion? Adesso il mignolo non manco Guarda Ah Bravo Vabbè È burst Sì Semplicifica tutto Si corde vai a morire contro Contro sì Ehi si sarcastico Mi dispiace principe Sashida Ho un disperato bisogno di questo denaro Hai bisogno di Ashe Che monegrabber Lo chiameremo Lui sarà tipo il Luke della situazione dai Sì Dobbiamo fare un team su Eggene Sì Sì però aspetta se me lo ammazzo no? Sì potrebbero ma Eh infatti Ciavellotti Se dovrebbe avere uno eh infatti Luke ed morte magnifica Aspetta Tengo qua con la lanza acciaio Ah perfetto Qua niente Quelli non si muovono perché sono ritardati Siamo qui e Quel pirata che parte e fa Boh è lì a gioveccheggiare Nooo Vedi che sono sfigato con le rng in questo gioco Eh mi dispi spi 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 spiace Eh Beh non sei più così sfigato Traditore Pitano Rrg Rrg perchè? Ma quanti rrg ci sono in questo gioco Troppi E comunque qua a questo punto Cazzo Secondo me lo doppia Probabile Sì Sì Che già Ti è già successo di che un pirata ti doppiasse Gordon quando equipaggiava l'arco d'acciaio E lo ammazzasse Sai che forse si? Tanto tanto prendiamo Giorgi Chi se ne frega di Gordon Eh giusto Giorgi Giorgi Fai Ogmae È spaventosamente OP Oddio C'è burst quindi non sembra così OP Però Di uno ma porca Bene Aspetta Facciamo una cosa intelligevole Il danno pesante E tu scherzi ma Ok qui sono un po' della cacca però Puoi sempre indietreggiare e lasciarsi che ammazzino Gordon per poi tipo ammazzarli tutti male Oddio anche però mi dispiacerebbe Ah quindi Gordon lo teniamo Oh è la seconda volta che mi colpisce con un 60% No perchè lui è burst Diciamo che mettiamo Jagen qui a tankare Povero che Devo pure utilizzarlo per qualcosa Cazzo No no Borden non deve morire Sicuro? Sì Abel sì Povero Abel Ascolta tra lo swag night cane E Abel Sì diciamo che Abel è l'imitatore però è comunque Decente Che palle But look Vabbè non indebolisce un po' Too much danno Allora prima ammazzacord E poi cosa attaccarlo swag night E vuole essere unità reclutabile Ma ti pare Deve essere giustiziato Deve essere giustiziato Qui ci vogliono le ruspe Non riesco a raggiungere Oh sì aspetta Sì ma non so se riesci a doppiare Non sarà così scarso Mart ti prego Ma perchè Un scida lo doppia di sicuro Io l'attacco con un scida giusto Ma la sto l'attacca Ma è troppo preziosa No seriamente la sta l'attacca Lo so lo so Ah pare che lo puoi comprare Shop segreti? No E capitolo Quello del porto Fermati un attimo Allora Sweat No Ah wow mi doppia pure Sì vabbè ma ti fa due per due Cioè Sì ho capito però Due per due uguale quattro La matematica di mortello Ma Ah comunque però controllo Il fiume quanto ha di schivare Ok zero Perché il mare da più 20 in schivata Però non il fiume lì sul mare Controlla passa sopra Sopra La madonna Fiume No fiume è zero Ah ecco Che poi i venti penso sia lo stesso dei forti Finisci Cioè finisci in una sega però E' veramente una cosa Adesso con calma Facciamo una cosa molto intelligevole Mettiamo qui Cosa a tancare Uccidiamo questo e questo E' abbastanza potere per farlo Infatti stavo guardando perché Tu coso Vai qui C'è il massimo mazzano gordo Inscolta Addio bastone di cura Ci hai servito bene ma Oh Devo usarla Si Ma qua i boss sono ancora a scudo I boss quanto sono più qua Oddio di meno rispetto al Al solito però Io qui ho paura però Beh Morteo non credo ci muoia No no Morteo Salvini E basta Troppi sette Aspetta quanto andadi Gli archi di ferro Quanto danno Quale select su questa tastiera Mi ricordo più Perché puoi controllare le statistiche Le roba dei nemici Non mi ricordo Cavolo E l'efficacia è per 3 No quindi Mi sembra non mi becca un'uscita Si sto pensando se riusci Come suicidarsi Barst smash Primo livello Lui è barst E vabbè Forza e difesa insieme Sono stupidi allora Mi fa 16 Lui è barst Devi venerare E grazie a barst Non abbiamo perso nessun'unità Execution Madre Ho fatto del mio meglio Cioè lui Mi colpisce con il 60% Gli altri mi missano con il 90 Vedi Bisogno usare barst Quando barst è la migliore unit Barst è tuo Stai guardando quanto abbia il tuo Voglio girare fuori la Inizialmente un dato che ce l'ho qua Tanto vale guardare Si in effetto Wow Mart me lo uccide Incredibile Bravo morteo Eh però non sale Quando il swag night è molto alto Si Rumori di Scherine Guardalo Guardalo Lui è barst Lui è la morte dai capelli blu Dovrebbe essere lui il lord del gioco Ma Roba da illuminati No Tu scherzi No Crediamo e scherziamo Ma questi Quindi back con il 60% Barst emblem Ex of Seals Ex of Seals Poi si scopre che barst è il padre di Hector E si spiegano molte cose Oddio Uh salviamo Cioè di lui Direi di si Perché siamo quasi al boss Dai ma diamo Diamo un'utilità ad Apple Ho brutta memoria dei boss di Shadow Dragon H5 Vediamo magari Qui se c'è qualcosa di carino Andiamo a vedere Buongiorno Le statistiche di questi Come posso aiutarvi Un martello ci abbiamo già Si Vediamo una scura di scorta La roba di ferro Allora Poi vediamo un po' C'è un ascio acciaio Ma tanto barst ce l'ha già Martello ce l'abbiamo già Have fun E la madonna Tra l'altro L'inventario Ah beh ma c'è anche l'astro Camus Slayer Banamele Lautenclair Si Che c'era nel fortino linalto Ti ricordi? Nel forte No niente Ti danno Oddio O i soldi Penso soldi Ancora Ti danno Mende Ma Mende Mi farebbe anche comodo Guarda Si appunto No però Mende Ah no ma Mende La droppa il boss Del capitolo 3 Ma non c'era qualcosa Da dare a Sisterlina O forse era più il Mende Eh il Mende Che droppa il boss Mi sa Vabbè Questo era il mio morte Ehm Magari è solo doppia pure No Hanno uno in meno In velocità di marco Non è possibile No ma sono qua I pirati sono forti E sono proprio La classe da speed Eh no Guardalo Ma guardalo Madonna Quante OP Ah il generale Sì E' bello tirare fuori Le vecchie memorie Tra l'altro Comparcia Perché Perché volevo colpire Medeus Ah ok Ma Giorgia era troppo lento Oh potente Potente principe d'altea Mi prego Salvate sorella Lena E' andata ai denti del gold Per soccorrere gli ammalati L'abbiamo messa in guardia Ma non ha voluto sentire ragioni Lena è il nostro angelo Se ne accadesse qualcosa Io No Non voglio neanche pensarci Prendete Sono 5.000 monete d'oro Per lo vittese Ci fa quella Vabbè Sì Give me the money Oh buon dio No vengi speed Dai No mi consolo Vedendo Fai le statistiche Sì Quindi Bord Lo sottoponiamo Alla scia demoniaca Sì Quando la troviamo Cioè E' mica Infatti E se sopravvive Fa parte del team Fa parte del team E lo mettiamo Come Sorcerer No Bord Sì ma vabbè Sono gemelli Non è che Già è fegato Ad affrontare la mia ciurma Vediamo se Stasha Dritte in fronte Ti fa cambiare idea Perché i pirati Parlano in romano Glorious Glorious Facciamo un cuglio A lui Se vuoi Ma sì O lui O Barst Nel senso Ok Che vuoi Tanto riesce Qualcuno riesce a colpirlo Forse è morto Ok Dai Questi maledetti Ma un giorno Un giorno Ma si capta Perché sei morto E intanto il potere Dello swag Ha vinto ancora Here comes the money Conquista Maledetti pirati Avete la nostra Più profonda Gratitudine Sire Per aver finalmente Cacciato Quei pirati Ho sentito dire Che avete intenzione Di marciare Sull'Aurelis Già vi porterà Dritti dritti I denti del gold Con il dovuto rispetto Sire Correte un grave rischio Attraversando Quei morti E territorio Sanziano Quello Poi non mi andava più avanti I Sanziani Sono pericolosi Banditi Dediti a razziare I villaggi E ad assalire I viandanti Che osano passare Per di là E lo spadacino Che con loro Porta il nome Di Navar Dicono sia un diavolo Con la spada E una merda Spoiler E poi arrivo Orma Se decisi ad andare lassù Tenete gli occhi ben aperti O potreste non tornare vivi Bene E qui finisce il capitolo 2 E ci rivediamo la prossima volta Sceo Contro Navar Che fa cose Tanto Ogma vince Esatto